Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Il procuratore Facciolla lancia un allarme per i depuratori dell'Oionio Cosentino. Cerimonia di reinsediamento alla mezza terme del sindaco Paolo Mascaro. Presentato il programma della varia di Palmi, un evento atteso da tutta la comunità. Scontro diretto per la Conad la mezza che va a Roma per alimentare le residue speranze di salvezza. E dunque il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla lancia l'allarme sullo stato di alcuni depuratori nei comuni dell'Oionio Cosentino, una situazione ingestibile che necessita di una soluzione. Allarme depurazione nell'Oionio Cosentino a lanciarla e il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla che ha preso parte a una riunione in prefettura a Cosenza per pianificare gli interventi da realizzare con urgenza. La procura della cittadina del Pollino sta indagando da qualche anno e sono stati già sottoposti a sequestro diversi depuratori. Molti comuni però non hanno effettuato i lavori di adeguamento previsti e il rischio è che la situazione dei generi e a pagarne le conseguenze sarebbero le acque del Marionio. Dobbiamo intervenire prima che accada il peggio, ha detto Facciolla. Un altro problema, ha poi aggiunto il procuratore, è che i lavori sui vari depuratori erano già stati finanziati ma i fondi sarebbero stati utilizzati per altro. Si è reinsediato il sindaco di La Mezzaterme, Paolo Mascaro, dopo una lunga battaglia contro il provvedimento del Ministero dell'Interno che aveva sciolto per mafia il Comune nel 2017. Si è reinsediato il sindaco di La Mezzaterme, Paolo Mascaro, rientrato nel possesso delle proprie funzioni dopo l'accoglimento da parte del Tar del Lazio del ricorso contro il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di La Mezzaterme emesso nel 2017 per infiltrazioni mafiose. Mascaro, giunto nel piazzale antistante, la sede del Palazzo Comunale, è stato accolto da un applauso da parte dei presenti e intervistato dai giornalisti. Smentite alcune voci che erano circolate circa le sue possibili dimissioni all'indomani del reinsediamento. La determinazione è ferma ad andare avanti, oggettivamente ci sono troppe tematiche che attendono una pronta risoluzione. Se guardate nella macchina trovate il fascicolo del PSC, sono 15 mesi che non so quella proposta di delibera di Giunta Comunale del 17 luglio 2017 perché non è arrivata alla naturale conclusione, infatti oggi è tra le tematiche che volevo affrontare. L'aver La Mezzia subito questo scioglimento, quindi un fatto assolutamente eccezionale, comporta che vi debbano essere a mio parere delle conseguenze eccezionali, cioè che bisogna avere un patto proprio tra tutti i consiglieri, mettere al primo posto la città di La Mezzaterme e relegare a un angolo, meglio ancora annullare l'età personale di possibili prossime elezioni che siano esse regionali o comunali e lavorare solo con un faro. Ho mandato anche ieri un messaggio a tutti i consiglieri comunali dove ho detto ricordiamoci tutti che ciascuno di noi ha ricevuto il mandato unicamente per servire questa città e allora tutti cerchiamo di servire, nelle nostre diverse posizioni cerchiamo di servire la città. Io sono venuto perché ho ricevuto una telefonata da parte del segretario generale, nel corso di questa telefonata mi si comunicava che i commissari sarebbero andati via e quindi ho ritenuto che la telefonata unita alla circostanza che i commissari andavano via significava dare esecuzione alla sentenza e quindi ovviamente consentire al sindaco di rientrare al suo posto. Io metto oggi piede nel palazzo di città, le primissime cose sono operative, quindi ho ricevuto comunicazioni di stamattina dovrebbe esserci una visita ministeriale per quanto riguarda il progetto Sprar, quindi mi sono sentito con i responsabili dei progetti Sprar, credo di incontrarli alle 12, ripeto alle 13 incontrerò Bevivino e tutto lo staff e la multiservizio, 17 e 30 incontrò gli assessori e incontrò anche i servizi sociali perché mi dicono che oggi scade un termine per firmare una convenzione in ordine a una delibera di giunta comunale della mia amministrazione per un finanziamento per il progetto Demetra che abbiamo avuto e se oggi non si mette questa firma si perde anche questo finanziamento. Passiamo alla cronaca, i carabinieri hanno denunciato un uomo già agli arresti domiciliari per recitazione di legna ricavata dall'abbattimento illegale e dal furto di alberi avvenuto nei giorni scorsi nella località Montegiove del territorio di Mesoraca. Nel corso di un controllo del territorio qualche giorno fa nella località Montegiove del territorio di Mesoraca nel crotonese i carabinieri forestati hanno localizzato un'area dove erano stati abbattuti e trafugati 13 cerri, alberi del genere querce. Le impronte lasciate dai battistrade dell'automezzo che aveva effettuato il trasporto insieme ad altre informazioni bagliate attentamente dai militari intervenuti hanno consentito di localizzare un'abitazione in cui è stata ritrovata tutta la legna trafugata. In seguita ad accertamenti condotti congiuntamenti dalle stazioni carabinieri di Mesoraca è stato individuato l'uomo che aveva la disponibilità dell'immobile nel quale si trovava l'area furtiva. Si tratta di un 37enne di Mesoraca in stato di detenzione domiciliari per altri reati. L'uomo è stato deferito alla procura della Repubblica per il possesso della legna derivante dal furto mentre tutta l'area furtiva recuperata, oltre 10 metri sterili di legna per un valore commerciabile intorno ai 1000 euro è stata consegnata all'amministrazione comunale di Mesoraca, proprietà dell'area boschiva. Ancora cronaca, una partita di oltre tre quintali e mezzo di nove lame di sarda è stata scoperta e sequestrata dalla guardia costiera di Corigliano Rossano. I militari nell'ambito di un'attività di controllo del territorio hanno intercettato sulla statale 106 nei pressi della zona industriale di Corigliano un furgone con all'interno 51 cassette di bianchetto pronto ad essere messo illegalmente sul mercato e venduto al dettaglio. Il pescato sequestrato, giudicato non idoneo al consumo umano da parte dei veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza è stato successivamente distrutto al conducente dell'automezzo che trasportava il nome lame è stata inflitta a una multa di 25 mila euro. Cambiamo decisamente argomento, è un evento sempre molto atteso a palmi parliamo della varia nell'edizione 2019 che è stata presentata alla stampa. Nella sede del comitato varia palmi è stata presentata all'edizione 2019 della manifestazione divenuta patrimonio immateriale dell'UNESCO insieme a tanti altri eventi tradizionali e popolari che si svolgono in Italia. La varia di tutti e per tutti è lo slogan lanciato in conferenza stampa dal presidente del comitato Saverio Petito e dal sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. E sono contento perché davvero c'è una squadra forte, motivata e c'è un grande fermento intorno alla varia. Molte attività sono in cantiere, magari alcune le sveleremo già in corso di conferenza stampa ma devo dire che sono soddisfatto perché ci attende davvero una gran bella festa, una gran bella estate. Sì, assolutamente. Quando parliamo che la varia è la festa di tutti noi la intendiamo non solo di tutti i cittadini palmesi che vogliono e possono finalmente dare il proprio contributo ma di tutta l'umanità. Ne è prova, riprova il riconoscimento unesco. Ormai questa varia ha varcato i confini comunali ma anche regionali ed è davvero un patrimonio mondiale che tutti noi dobbiamo valorizzare oltremodo. E ora passiamo allo sport, precisamente alla pallavolo, scontro diretto per la Conad La Mezzia che va a Roma per alimentare le residue speranze di salvezza. Ultima chiamata per la Conad La Mezzia, vincere o ritrovarsi in A3. Questa è la situazione della squadra calabrese alla vigilia di un match che rappresenta davvero un'ultima spiaggia quello di domenica prossima sul campo di Roma. La situazione in classifica è chiara, la Conad è ultima con sei lunghezze da recuperare proprio da Roma e l'ultimo posto significa retrocessione diretta. Un'eventualità sempre più concreta se si pensa che dopo la trasferta a Capitolina resteranno da giocare alla squadra della metina solo tre gare, dunque margini davvero ristretti per poter recuperare lo svantaggio. Bisognerà vincere la gara di domenica prossima e poi farlo contro formazioni decisamente più quotate. Lo stato di forma però non è dei migliori, anzi, le sconfitte consecutive sono 5-4 per 3 a 0 e pensare di recuperare sei punti dopo averne portato a casa nel resto del campionato solo otto è davvero impensabile, ma come si dice in questi casi bisogna pensare una partita alla volta a cominciare da quella di Roma. Del resto solo un successo potrebbe alimentare qualche residuo speranza di salvezza. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie e buon pomeriggio.